Welcome to the Soul Generation On the red corner, Andrea Pacchinetti On the blue corner, Raffaele Cinquegrana On the micboard, and it's time! Ricordando che oggi il 24 luglio 2015 la caldazza ci pervade qui, climatizzatori a bomba andiamo a vedere perché dovremmo avere in collegamento telefonico Pierluigi Bellini da Playasia.com con le sue Perle d'Oriente Ciao Pierluigi, ci senti? Sì, sì, ciao Andrea, ciao Raffaele Eccolo qua, eccolo qua che arriva dal Giappone Ma tu cosa fai? Una volta a settimana torni dal Giappone con le valigie piene di giochi e ci dici c'è questo e c'è l'altro Sì, esatto, guarda, proprio così Ah, un po' come, come si dice, vendi davanti Un po' come il Paddington mi viene in mente, però no Orsettino? Esatto. Eh sì, ti trovi con le bancarelle Esatto, mi prendono i giochi e poi dopo io li rivendo perché così do da mangiare, perché così mangio Da mangiare anche a famiglia Senti Pierluigi, che cosa ci proponi questa settimana con queste meraviglie? Vediamo un po' cosa hai tirato fuori Allora, questa settimana è una cosa un po' diversa dal solito Attenzione, ruolo di tamburi, Raffaele Esatto, vi propongo una console Eh, com'è questa storia? Esatto Come si chiama? Una console dedicata principalmente ai retro gamer Dato che io sono appassionatissimo di retro games Allora, per questa settimana ho scelto di proporvi il Retro Freak Che è prodotto da una piccolissima azienda giapponese Che si chiama Cyber Gadget Ah, quindi non è una cinesata È una console che arriva dal Giappone proprio Sì sì sì, una console che arriva dal Giappone Che uscirà il 31 di ottobre Ma che si può già preordinare su preasen.com Senti Pierluigi, mi ripeti piano piano il nome Perché ho qualche dubbio Sì, Retro Freak Freak Esatto Ah, strega Il nome pare un po' strano, vabbè, vabbè E che cosa fa questa console? Che cosa ci fa giocare? Che giochi... Allora, ci fa giocare a più di 9000 titoli Esagerato Eh sì, perché è compatibile con i giochi di 11 console differenti Tutto in uno Con i giochi originali di 11 console differenti Con i giochi originali Sì sì sì, con i giochi originali Allora, adesso vi dico tutte le console Non 9000 titoli, ti prego No, 9000 titoli no Però se volete per la prossima settimana faccio una lista dei 9000 titoli E non dormi Facciamo una trasmissione solo con quella Andiamo a vedere che cosa si può fare Allora Su questo Retro Freak Retro Freak Esatto, Freak Freak Come i Freak Ah, sei chic, sei Freak Esatto Andiamo avanti Allora Famicom Poi Super NES Super Famicom Mega Drive Mega Drive e Genesis PC Engine Turbo Graphics 16 Il Game Boy Game Boy Atman Il Game Boy Color E il Super Graphics Quindi praticamente fa girare anche i giochi del PC Engine Che è una delle mie console preferite Peccato che non abbia il CD, vero? È soltanto su cartuccia Eh no, è solo su cartuccia Peccato, peccato Perché sarebbe stato interessante Esatto Al prezzo di E la cosa Allora Ci sono due versioni Allora C'è la versione Premium Che contiene anche l'adattatore Per poter collegare i controller del Del Famicom Del Super Famicom Del Mega Drive Del PC Engine Che costa all'incirca 206 euro Beh E poi invece C'è la versione Standard Che è senza adattatore Che costa all'incirca 155 euro Perché ha il suo Joypad incluso Esatto Ha il suo Joypad incluso E invece poi L'adattatore Si può anche acquistare Separatamente in un secondo tempo E ha un costo di circa 50 euro Eh sì Che poi va a fare la differenza Fra la versione Premium E la versione Standard Esatto Senti Pio Reggio Ma la cosa che mi interessa di più è Come si collega la TV E a quali TV? Allora Si può collegare anche Alle TV di ultima generazione Perché si collega Con un cavo HDMI Ah vedi Per cui non ci sono Mi immagino che poi La grafica sarà Sarà fatto un upscaling Per Esatto Se non ricordo male Ha una risoluzione Di 720p Poi Perché anche il problema Che si spalmano un po' i colori Ho visto qualche console Retro sulle TV moderne Non è proprio il massimo Però con questo trucco Sì alcune console effettivamente perdono Ma essendo in Retro Freak Appunto Una console Comunque nuova Anche se è compatibile Con tutti i giochi del passato L'hanno fatta bene Nel senso Che Hanno fatto in modo Che girasse Più che decentemente Anche sulle TV moderne Ecco E beh Giustamente Pierluigi Questa console ovviamente È disponibile Su Play Asia Giusto? Esatto Disponibile già Come preorder Su Play Asia.com Sia in versione premium Che in versione standard Ok Ma sai che puoi Per vedere Qualche E poi ne approfitto E poi ne approfitto Per dire anche Che Sempre su Play Asia.com Sono disponibili Giochi per Famicom Super Famicom Mega Drive PC Engine Eccetera 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 Beh 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 Io quando sento Super Famicom ragazzi Mi fermo sempre un istante È più forte di me I brividi Bene Pierluigi Dopo questa Questa è una bella bombettina Eh Hai tirato una bella Perla d'Oriente Questa è interessante Bene Un po' il nome strano Retro Freak Un po' curioso Ancora Mi sembra qualcosa Con la cravata Ascolta scrivi in Giappone All'azienda di cui ha parlato Prima Pier E digli Oh non mi piace Ma Pasquale Copax Donato Ha detto Fricchettone Quindi ci sta un po' Retro Fricchettone Retro Fricchettone Bene Per Luigi Beh ci potrebbe fare Un retro fricchettone Che è compatibile Con i giochi degli anni 70 Ah è vero Con l'intellivision Con la parruca afro E siamo a posto Fantastico Esatto Pier Luigi ti salutiamo Grazie mille per questa bella Bella chicca Alla prossima Grazie a voi E buona continuazione Buona serata Un cordialmente Con un bel prego Grande Pier Questa volta Hai fatto anche breccia Qui nella nostra chat Perché c'è Rino Che ci ha subito Messo gli occhi addosso Anche se poi dice Che si è comprato Il Retro 5 Che è una console Che viene distribuita Qui anche in Italia Ed è praticamente simile Solo che non fa girare I giochi del PC Engine E allora dice Magari mi compro direttamente Il PC Engine E faccio prima Beh bisogna vedere Quanto poi ti viene a costare Un PC Engine Esatto Cari ascoltatori Fate attenzione A acquistare delle console Che magari sono sconosciute Andate su Play Asia O chiamate il nostro amicorino Per cercare di capire Come spendere bene Lead Indie Ma siamo andati lunghi Un pochino E dobbiamo andare a parlare Di un gioco Che Raffaele ha provato E ci spiegherà Che cos'è Questo Deception 4 The Nightmare Princess Di che si tratta Raffaele Five Trouble The Sun E Kipinapi Ne metta Si tratta di un gioco Di strategia Sembrava un gioco Che richiamasse L'atmosfere horror E invece Non lo è Ma richiama Delle atmosfere Molto molto sadiche Perché devi sapere Andrea Che è un gioco Di strategia Dove tu devi Posizionare delle trappole Per fare delle catene E far soffrire meglio La tua vittima Ecco Questo è in sintesi Il gioco In pratica Tu in persone Diciamo Una delle figlie del diavolo In realtà poi ce ne sono due E lo tuo scopo È quello di ridare Forza a tuo padre Quindi al diavolo Per tornare sulla terra Facendo Fare dei brutti sogni Alle persone E durante questi brutti sogni Fargli passare Praticamente Una Più del diavolo Proprio così si dice Ti dicevo Un gioco di strategia Tu parti Selezionando le varie trappole Che ci sono Man mano che vai avanti Nei guadagni di nuove Hanno diversi attributi Eccetera eccetera E poi le dovrai disporre Su una griglia Questa griglia È composta All'interno di una stanza In maniera tale Da riuscire a interagire Anche con degli elementi Sullo sfondo Per esempio Delle pareti Che si muovono Oppure delle colonne Che cadono O ancora Delle statue Che ti prendono E ti abbracciano Con delle strette mortali O cose di questo genere Una sorta di scacchiera Una sorta di scacchiera La cosa bella È che devi creare Delle catene Magari qualche ascoltatore Se lo ricorderà Di Incredible Machine Un vecchissimo gioco Dove dovevi mettere insieme Tutte le parti Per far raggiungere Il Diciamo Lo scopo Collegando Una serie di azioni Ecco questo è la stessa cosa Ovvero Piazzi magari una Come si dice Una Orca non mi viene in mente Una Bomba? No non una bomba Una tagliola Ecco piazzi una tagliola E il tuo nemico Comunque il tuo personaggio Ci entra dentro Dopodiché Una volta che è uscito Dalla tagliola Gli fai cascare addosso Una zucca E questo qua va avanti Di tre o quattro caselle Nella stessa direzione E poi va a sbattere Contro un muro Che lo sbatte Contro una Una Come si chiama Una parete elettrificata Che poi arriva Una mannaia dall'alto Che lo prende Lo sbatte dall'altra parte Finisce nel fuoco E poi c'è una Insomma è una cosa così A iniziare a giocare a questo gioco Ci vuole un pochettino di fegato Perché ci sono Questi personaggi Che finiscono Malcapitati Poveracci Che fanno dei versi Effettivamente un po' inquietanti C'era mia moglie Che stava cucinando Nel frattempo Mentre ci giocavo E diceva Ma che è sta cosa A che cosa stai giocando No sto facendo sottoline delle persone Prova a fare questo suono Uno che ti viene in mente Raffaele Una cosa di Non sto scherzando Scusate cari ascoltatori E' un di forte di me E' un gioco particolare Non è sicuramente Il gioco per tutti Però lo consiglierei A chi ama un pochettino Provare qualcosa di diverso E a chi piace pensare Perché dietro a questo Magari a questo incipit Un po' strano Diciamo così Si nasconde un gioco Dove effettivamente C'è tanta strategia Dietro ci sono poi Tantissimi livelli da superare Che si possono superare Come meglio credi E non solo Ci sono due storie Che si possono seguire Questa è la riedizione L'ho provato su Playstation 4 È la riedizione di un gioco Che era uscito già su Playstation 3 Con nuovi livelli E ne puoi creare anche di nuovi E li puoi condividere con la community Insomma Immaginatevi un po' Quanto tempo si può passare Dietro a un gioco del genere Sì un po' sadico Beh un po' molto Sadico Graficamente non è un granché Non crediate di sfruttare al meglio La vostra Playstation 4 Però ha quel tocco di originalità Io non conoscevo gli episodi precedenti E me l'ha fatto apprezzare Ma come si vede la telecamera Raffaele? La puoi regolare tu La puoi regolare tu Quindi puoi ruotare intorno Come fosse una scacchiera in 3D Sì 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 Puoi ruotare intorno Puoi muovere il personaggio Anche liberamente Puoi anche prendere a calci Il balcapitato Perché tu sei sulla scacchiera E quindi magari Se vedi che Tagliola Per andare Per farlo andare Sulla trappola successiva Magari puoi anche dargli Tac una spintarella E così Oppure un signore gentile Io le consiglierei Di prendere la casella Numero 2 alla sua destra E bam Gli arriva un'ascia nel collo Comunque Molto interessante Ricordo agli ascoltatori Che c'è su Playstation 4 Io l'ho provato lì Ma c'è anche su Playstation 3 E c'è anche su Playstation Vita Dove io consiglio di giocarlo Perché Molto comodo Per via del Del fatto che I livelli sono abbastanza brevi E È proprio un tipo di gioco Mordi e fuggi Quindi ti fai magari Un livello Due livelli E poi lo pianti lì E vai avanti Il giorno successiva Testo completamente In inglese Ok vabbè Almeno non solo in giapponese Perché tu hai provato Di questi generi Cose un po' estreme Raffaele Bene bene Raffaele ci ha andato A scoprire qualcosa Anche lui dal giappone Io invece ho provato Formula 1 2015 Di Codemaster Che è in versione Playstation 4 Ma disponibile anche per Xbox One e PC Inutile ricordare Che nelle ultime stagioni La Formula 1 Abbia perso un po' di smalto A causa dei continui Cambi di regolamento Che confondono tutto E tutti Come l'apparizione Di sistemi tecnologici KERS O DRS Per non parlare Dei motori ibridi Con suoni da micromachine Anche le versioni Per console e PC Hanno dovuto stare al gioco E fotocopiare Gli eventi reali Che regalano Troppo poco spettacolo Il gioco sviluppato Da Codemaster Che detiene i diritti A nella sua scelta Di abolire la modalità carriera La cosa più curiosa Raffaele No niente Lo credo Personalmente Non sento la mancanza Perché tutte le altre Modalità classiche Ci sono La gara veloce Il campionato Time attack E multiplayer E non amo partire Da lontano Facendo gavetta Ad ogni titolo Racing simulativo La cosa bella Di questo Formula 1 2015 È la possibilità Di scegliere Ad ogni avvio Del gioco La stagione 2014 O 2015 Per rimescolare le carte E dare la possibilità Di guidare La Ferrari Per esempio Con Fernando Alonso O la Red Bull Con Sebastian Vettel E perché no La marussia Dello sfortunato Jules Bianchi A cui ho dedicato Una gara A livello pro In Spagna Battendo le Mercedes Di Hamilton E Rosberg E a proposito Di livello di difficoltà Devo confermare Che da quello Medio in poi La musica cambia Giocare settando La difficoltà Elite Non permette Il minimo errore O sbavatura Facendo perdere Terreno In un lampo Troppo troppo estremo Beh come è giusto che sia Alla fine la Formula 1 È uno sport Dove non è permesso Nessun errore Ma io sono a casa Con il joypad L'intelligenza artificiale Aggressiva E a volte stupida Come ad esempio Arrivare a fine rettilineo Appaiati all'avversario Con l'interno della curva A nostro favore Trovando il contatto Gratuito e senza motivo Questo Pam Ti prende dentro Ma stai lì Buono che ti fai male Anche tu E non ti aveva visto Ma che Non ti aveva visto Anche uscendo di curva A gran velocità Avendo un piccolo distacco Da chi ci segue Non serve L'avversario ci raggiungerà Come niente fosse Magari ci tampona la frenata Senza farsi troppo i problemi Tu arrivi i freni E senti Boom Vabbè Ma scusa Ma non doveva essere Una simulazione E che ti devo dire Sul controllo della vettura Mi sono trovato subito A mio agio E a volte E una volta Preso le misure Con l'erogazione Della potenza Il dosaggio Del freno Il gioco inizia a parlare La nostra lingua D'obbligo Le prove libere La qualificazione Per memorizzare il circuito E trovare il set In migliore dell'auto Perché Essendo simulazione Bisogna un pochino Mettersi lì Graficamente Il gioco è ben realizzato E con una fluidità A 60 frame per secondo L'effetto della velocità E dei sorpassi Sono un vero spasso In alcuni casi L'effetto tearing Quelle linee trasparenti Che ricordiamo Scompongono a volte L'immagine Fanno percepire Qualcosa di strano Per pochi istanti Non sono fastidioso Ma senti che dici Ma ho visto bene L'audio non è male Ma il rombo dei motori È ben lontano Dai tempi d'oro Dei motori ibridi Lontano prima Dei motori ibridi Scusate Da notare In alcuni replay Il suono della mia vettura Era strozzato e muto A differenza degli altri In conclusione L'arrivo della formula 1 Sulle nuove console Non stravolge i canoni Visti nelle edizioni Old gen Ci sono diverse migliorie A partire dalla grafica Ed un controllo Della vettura appagante Anche per Codemaster Il tempo darà la possibilità Di migliorare il gioco Con gli aggiornamenti E la maggior conoscenza Di playstation 4 E xbox one Gli permetterà Di proporre titoli Dedicati a queste macchine Perché al momento Siamo ancora un po' a metà A mio parere A metà fra next gen Che poi son current E le precedenti Però non male Non male Mi aspettato tanto Però non sono riusciti Secondo me A sviluppare al meglio Il titolo Ma non è così male Ragazzi Assoluto Prima di passare alle news Da videogiochi.com Un appunto su Deception 4 Dove c'era Rino Che domandava Se il gioco Visto che in inglese È fruibile anche Da chi non è proprio Ferratissimo con l'inglese È un gioco di strategia Quindi è un gioco Che è molto lento Ti permette di pensare Di star lì anche Magari con un minimo Di dizionario Oppure col telefono di fianco Per controllare la parola Che non capisci Però è importante Comunque riuscire A comprendere bene Quelli che sono gli obiettivi Di superamento del livello Altrimenti magari Ammazzi comunque Il tuo avversario Però non riesci A superare il livello Come mai ma Eh ragazzi Allora andiamo avanti Con le news Che arrivano direttamente Da videogiochi.com Dove Sony Computer Entertainment Ha organizzato un torneo Rivolto a tutti i giocatori Di Rocket League Questo gioco di calcio Con le automobilini Che sta facendo impazzire Tutti i possessori Per partecipare Occorre iscriversi Entro le 11 di martedì 28 luglio 2015 Tramite Playstation Italian League Una volta iscritto Il proprio team Composto da tre persone Basterà seguire Le indicazioni del sito Dove è elencato Anche l'intero regolamento Della competizione Che vi riproponiamo Tramite videogiochi.com Se volete andare a cliccare Capire bene Inoltre tramite il concorso Play e Win di Sony Sarà possibile vincere Una Playstation 4 420 Anniversary Edition Ammazzate Niente male Hai visto? Non male Non male Invece per chi sta ancora giocando A The Witcher 3 Wild Hunt Sappiate che è stato rilasciato Un nuovo downloadable content Naturalmente gratuito Che aggiunge nuove mosse e animazioni Al personaggio di Geralt Il DLC è disponibile Per tutte le piattaforme Io ci sto giocando Ancora oggi A The Witcher 3 Peccato Sì ma Devo dire che devono fare ancora Passi avanti Per rendere il movimento Bello fluido Perché ce n'è Ce n'è da fare Techland ha annunciato Che la nuova espansione Di Dying Light Che introdurrà tantissimi Nuovi contenuti Sarà svelata Seppur a porte chiuse Nel corso Della Gamescom 2015 Di Colonia In un teaser trailer Condiviso su Youtube Lo sviluppatore Ha dichiarato Che la nuova espansione Permetterà ai giocatori Di guardare Il titolo Sotto una nuova Luce Differente Sapendo che Raffaele L'ha adorato tanto Starà alla finestra Ad aspettare Questo DLC E beh Direi proprio di sì Direi proprio di sì Visto che stiamo parlando Di zombie invece Il buon Come si chiama Dead Island 2 Che sarebbe dovuto Uscire Nel L'anno prossimo Al momento Ha perso lo sviluppatore Perché Cock Media Che è il Come si chiama Il publisher Ha tagliato i ponti Con lo sviluppatore Quindi Chi lo svilupperà Quando uscirà Che cosa sarà Nessuno lo sa Ragazzi Le telenovela Come Cogina con Konami Anche gli altri Fanno un po' di Si 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 vede che non andavano d'accordo Va bene Ma Raffaele Avevi la notizia Di Gears of War Che ti spetta Ma si Vabbè L'uscita di Gears of War Ultimate Edition Prevista per il prossimo 25 agosto È stata annunciata Sia per PC Sia per Xbox One Ma un recente aggiornamento Indica che la versione Per console Xbox One Sarà la prima ad uscire La fonte della notizia Non la fronte Proviene proprio da Phil Spencer Capo della divisione Xbox One di Microsoft Tramite Twitter Lui dice Gears of War Ultimate Edition Per Windows 10 Uscirà dopo La versione per Xbox One Va bene Invece andiamo a parlare Di Metal Gear Perché Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain È disponibile per il pre-order Su PlayStation Store Giapponese Dove Konami ha indicato Anche il peso del gioco La versione PlayStation 4 Richiederà 25,1 GB Di spazio Disponibile Sull'hard disk Della console Non è tanto Raffaele No non è tantissimo Mentre la versione PlayStation 3 Sarà grande Solo 11,7 GB Inoltre Hideo Kojima Ha condiviso Un nuovo post Dedicato a The Phantom Pain Dove vengono mostrati Snake e Quiet Con volto e corpo Insanguinati Non del loro sangue Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Sarà pubblicato su PlayStation 4 PlayStation 3 Xbox One 360 Il primo settembre 2015 Quindi manca un mesetto Mentre la versione PC Sarà acquistabile Tramite Steam Il 15 settembre Manca poco Raffaele Questo è un titolone Parlando invece di Retrocompatibilità Sappiate che Call of Duty Black Ops 2 Ha scavalcato Red Dead Redemption Ed è adesso Il gioco più richiesto Dai giocatori Per la retrocompatibilità Con Xbox One In seguito All'annuncio Delle 3 In cui Microsoft Ha rivelato appunto Questa nuova funzionalità Su Xbox One La società Ha aperto un sondaggio Sul proprio sito ufficiale In cui veniva chiesto Agli utenti Di votare i giochi Che vorrebbero rendere compatibili Con la console next gen Potete farlo ancora adesso Entrate su Xbox.com E da lì riuscite a trovare La parte del forum Dove potete votare E quindi Votate il gioco Che preferite di più Allora Questa è una notiziona Ma la voglio dire Perché Nokia Potrebbe rivelare presto I suoi piani Dedicati alla realtà virtuale In un prossimo evento Top Secret La fonte della notizia Pubblicata su Recode Sarebbero alcune persone Interne alla società E a conoscenza Dei piani aziendali Se anche Nokia Si butta sul gaming Con la VR Ragazzi Ale Champagne Non che sia l'azienda Che se la passa meglio Che se la passa meglio Sul mercato Ma sai che ormai È stata acquisita Scusate Da Microsoft Sì ma questa qua Sì ma questa qua è la parte È la parte che non è stata acquisita Comunque Cambiamo argomento Parliamo di Yu Suzuki Ovvero il creatore Della serie Shenmue Che Evviva evviva Ha ringraziato i fan Per aver sostenuto La campagna finanziaria Di Shenmue 3 Su Kickstarter Dove il titolo ha raccolto Oltre 6 milioni di dollari Yu Suzuki Ha annunciato ufficialmente Che lo sviluppo del gioco È appena iniziato Ecco alcune delle sue dichiare azioni Non ho potuto fare a meno Di constatare il profondo amore Che avete per Shenmue Anche dopo che sono passati 14 anni Vedere tutto il sostegno Che avete dato È un qualcosa Che un creatore Può solo sognare E la Yu Suzuki Bomber Bomber E invece questa notizia È un'altra bella tosta Perché Rise of the Tomb Raider Verrà pubblicato per Xbox One E tra il 60 a novembre Con l'esclusiva temporanea Che abbiamo già sentito da tempo Square Enix Ha finalmente dato Una risposta Al periodo di lancio Per la versione Per PlayStation 4 Che sarà pubblicata Durante le Holiday 2016 Quindi Presumibilmente Durante l'inverno Dell'anno prossimo Durante le vacanze Esatto Mentre la versione Per PC Windows Arriverà all'inizio Del 2016 Quindi non tanto distante Ma vabbè Gioca in casa Microsoft Per cui Ci può stare Raffaele Andiamo con la bomba Della settimana Perché è veramente Una bomba Pazzesca E beh Qui con tutto il cuore Posso dire che Trent'anni fa Nasceva l'Amiga Il computer da gioco Per eccellenza Che naturalmente È entrato anche in casa mia E lo ricordo veramente Con tantissima passione Il desiderio di molti Era dunque Di poter avere a casa Giochi con una grafica Simile a quella offerta Dei cabinati Ma senza spendere Cifre astronomiche In monetine Amiga 500 Permetteva di farlo E alcune delle sue Conversioni da bar Persuasero i giocatori A comprare Questo vero e proprio Gioiellino L'industria videoludica Di oggi deve tantissimo A quanto seminato da Amiga Trent'anni or solo Ed è quindi un obbligo Per i videogiocatori Ricordare Almeno per un attimo Anche se non l'avete Vissuta sulla vostra pelle Il passato glorioso Dell'azienda canadese Buon compleanno amiga Con tutto il cuore Delle doca Floppy disk Ragazzi All'epoca era qualcosa Di pazzesco Immaginate Una tastiera Del computer Un po' più cicciotta Un po' più ampia Con una foratura A destra Della tastiera Per inserire i floppy disk E tanto divertimento Mi viene in mente Non so perché Raffaele Il gioco di Lupo Alberto Mi resta in testa Perché si vede Che Mi è rimasto in mente Parello Io sul mio profilo Di facebook invece Ho fatto un grande Amar cordo Dove ne ho ricordati Circa una ventina E devo dire che Mentre lo scrivevo Ci ripensavo E insomma Ce ne sono tantissimi Il tempo passa Però le memorie restano Va bene Andiamo a Raffaele A parlare di qualcosa Di solito Perché due zombie Si incontrano Raffaele Uno dice E l'altro sai Cosa gli risponde Va bene Va bene Andrea Questa è un po' meno Delle scorse settimane Cari ascoltatori Ma cosa si dicono? Altronde la fantasia Non è che nasce E che cresce Sotto l'albero Ma cosa si dicono Due che fanno così? Vabbè comunque Tramite il nuovo trailer Di lancio pubblicato Su Youtube E' stata annunciata La data d'uscita Della versione Playstation Vita Di Resident Evil Revelation 2 Oh Il survival horror Sarà disponibile Sia in Europa Che in Nord America Il 18 agosto 2015 Ammazzate All'ultimo minuto Ce l'han detto E sarà acquistabile Solo in formato digitale Al prezzo di 39,99 euro Resident Evil Revelation 2 Attualmente è disponibile Su Playstation 4 Playstation 3 Xbox One 360 e PC E Raffaele Siamo arrivati A 30 minuti Tondi tondi E il brano di chiusura Che ha scelto sempre Il nostro Pierluigi Bellini Da playasep.com Arriva dal gioco Che si chiama Trigger Art Exelica Uno shooter verticale Che uscì per Dreamcast Che si chiama Provato provato Gravity Horror E Raffaele Io ci voglio ancora Giocare agli shooter verticali Più degli orizzontali Ma alle tv Wide Non lo consentono Non pagano Bisogna mettere in verticale Bene Andiamo a Raffaele Tutti Andiamo a salutare Tutti Raffaele Andiamo a Raffaele Ti si ingarbuglia Andiamo tutti Andiamo tutti Andiamo a salutare Andrea si sta ingarbugliando È così alto Che poi si gira Si contorge E si annoda da solo Ma che vuoi fare Caldazza Videogiochi Corse Pazze Formula 1 Mortacci Zombie E via Un saluto a tutti Ricordandovi che forse Il joypad non cambia la vita Ma di certo L'addolcisce E quindi E quindi ragazzi Giocate Ridendo giocate Ma giocate Giocate senza nodarvi Mi raccomando Ciao Grazie a tutti